Ticino 2032 è il piano strategico di Haiti per lo sviluppo economico del nostro cantone che abbiamo elaborato durante un anno insieme a persone delle aziende industriali e specialisti esterni. Perché questo documento? Ma perché riteniamo che di fronte ai cambiamenti che stanno avvenendo a livello economico e sociale, pensiamo ad esempio all'impatto delle tecnologie sulla nostra vita privata e professionale oppure l'invecchiamento della popolazione, è necessario fare delle scelte chiare a livello politico e investire sul futuro del nostro cantone e della sua popolazione. Nel nostro piano strategico abbiamo trattato sei argomenti distinti, la formazione scolastica e professionale, l'innovazione tecnologica, la fiscalità e la competitività del territorio, i cambiamenti del mercato del lavoro, la responsabilità sociale di impresa e l'inclusione e la diffusione della cultura imprenditoriale. Negli approfondimenti del piano strategico che ora andremo a fare vi saranno probabilmente altri argomenti che potranno essere affrontati. Il nostro scopo è quello di aprire un dibattito a livello pubblico e politico sulle scelte migliori da fare per dare benessere alla nostra popolazione attraverso un'economia e una società che hanno la forza e il coraggio di affrontare il cambiamento. Vi invito a leggere anche voi il nostro piano strategico Ticino 2032 che trovate sul nostro sito internet www.ait.ch e vi do appuntamento ai prossimi episodi. Arrivederci!